Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gioca di Quasi il 2000 e oggi siamo in video su FIFA 18 ultimi team, vorrei fare un altro video insieme la squadra di oggi raga è anche una Premier League raga però è sempre più competitiva della mia raga, è sempre più competitiva raga che avanti Asala, Ibrahimovic, dei campioni, Deve Silva, Eriksen, Ozil ha dei grandi campioni avanti, ha dei grandi campioni sembra competitiva la squadra, rispetto alla mia discreta stagione fin qui la classifica può diventare interessante se riusciranno nelle prossime gare a trovare continuità di Nel di me comunque io ho esso come un altro gioco di un altro alla destra che è Sani ragazzi e oggi è il suo esordio da titolare ecco qua la Palamai numero 2 subito lo stesso palla Sani Kane Sade Kane e cos'anni raga vai Sade vai Sade vai Sade Sade Rhoici требiaci calcio l'angolo ragazzi calcio in angolo palla verso il centro del giuro palla verso il centro del giuro Ray K.M.K.L block e di Villi però un vale mi ha rimpiato male terrera si fa farsi arriva a bellerigno, mette in mezzo adesso la sesso all'esco l'avversario con Zola a metri davanti a sé attenzione occhio a Zil bisogna Ibra si ripartirà dunque con la rimessa del portiere 1 ragazzi, 1 è William Turey troppo la William è fatta già il posto lì perché è infortunato poi Herrera per un po' da sonneve Herrera fermato Klein Ericsson che vive il nostro Turey ma il nostro Turey non molla grande rosa Herrera con questo match arriva a 50 presenze in questa squadra Stefano si è inserito bene fai Gain, fai Gain fuori gioco ragazzi, fuori gioco di Gain fuori gioco di Gain Hector Vejerin oh Zilla Sala Sala da lì può andare col cross il pallone se ne va via madonna che gol di David Silva che gol e che gol di David Silva e che gol e che gol che ha fatto David Silva e che gol la palla è entrata lo stesso madonna ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Hector Weyering oh o Zilla attenzione a Salon grande William big italian ok c'è un modo bello di me Sané vai ecco Sané vai buttale in mezzo Sané difesa attentissima molto attenta grande Sané Herrera Erics guadagna metri verso l'area Yaya Thure Yaya Thure Kane Herrera Arbitro che concede il vantaggio Persone arbitro che ferma il gioco ma è punizione per noi calci di punizione Aspiliqueta Aspiliqueta Herrera Herrera madonna la Giambi si è andata su underwild undercline Herrera Thure si avvicina l'area tocco profondo di Yaya Thure ma qua ci vuole un cartellino che mi sta mezzando ci vuole un cartellino qua ci vuole un cartellino stavolta se no ci vuole un cartellino che lo dà il top grande arbitro grande arbitro grande arbitro ci vuole un cartellino ci vuole un cartellino ci vuole un cartellino ci vuole un cartellino di un cartellino di un cartellino di un cartellino ci mancherebbe solo che gli avversari segnassero sul calcio di punizione bisogna dire che la posizione è molto invitante il passaggio madonna occhio al suo movimento subito Herrera subito Herrera ma dai sembra rosa offside che ci sta tutto doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta rosa Herrera rosa vai Sané vai Sané bellerino ragazzi giude Sané madonna per poco non la prendi Herrera vai rompoli rosa madonna è un best difensore mannaggia santo mannaggia santo company raga mannaggia santo company che ha mancato l'intervento mannaggia santo company presenti company raga madonna occhio al corner di Ericsson attento qui il difensore che allontano hanno spazio per andare in contropiede i game che cavolo che cavolo che cavolo roteggia a fare il pallone che cavolo roteggia a fare quando devi partire David Silla Ci sta dominando con un uomo mancante Con un uomo mancante Che gran gol di Alixen Che gran gol Che gran gol Che gran gol I miei non si svegliano I miei non si svegliano I miei non si svegliano a svegliare Stiamo all'opposto ragazzi Stiamo proprio rovinati Stiamo rovinati Con un uomo in maiuscolo proprio Guardate che colpa Guardate che gollo Guardate che gollo Non ci ha pensato E anche stavolta non potrebbe fare niente Bisogna andare sempre molto attenti Nella marcatura Hanno incrementato il vantaggio Portandosi sul 2 a 0 3 C'è spazio per andare Sané Vai Sané Interrompe l'azione pericolosa Mi sono da belle rim Ibra Ibra Cadabra Un soprannome che descrive Il talento Il genio La follia La forza fisica Di Slata Di Brahimovic Capace di colpi Incredibili Abbiamo ammirato Con le maglie Di diversi club Anche qui Prova a calciare Madonna 3 a 0 3 a 0 Che faccio passare Guarda tutte le parti Guarda guarda tutte le parti Ma come è possibile Ma come è possibile Ma come è possibile Ma come è possibile Guardate 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 Tutti fermi Tutti fermi Tutti fermi La grande regola 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 Vai Sané Prova Sané Prova Sané Eh Non dirmi Il gengetto Non dirmi Non dirmi Pure La grande regola Che Che Nervetto L'ha fatto Stavolta L'intervento Che Intervento C'era 4 Tiri 3 golo La calciare 4 Tiri 3 golo Loro Io 4 Tiri anch'io C'è 3 Tiri Se non mi sbaglio Niente Attendiamo Attendiamo C'è 3 goli Già sotto Nel primo tempo Ragazzi 3 goli Sotto Nel primo tempo 3 goli Sotto Già Nel primo tempo Poi si riprende Ragazzi Come si riprende Speriamo in bene Si rende La chiama 12 Fortuna Di prima La categoria Sotto Smaronna Perderò 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 Madonna, ragazzi, per i passaggi Passaggio, ragazzi, mi divina, tutto E mi chiede, e mi chiede, che passare in mezzo Madonna, che intervento che portierà, che grande passaggio Ferrera, che inno, sarei Che gol di Sarri, ragazzi Gol all'esordio di Sarri, ragazzi, gol all'esordio di Sarri Gol all'esordio di Sarri 3 a 1 3 a 1 3 a 1 E finalmente abbiamo segnato almeno un gol Abbiamo segnato Finalmente abbiamo segnato un gol No, sicuramente farà qualche cambio, ragazzi Sicuramente farà qualche cambio Stai rendendo un gol facile, ragazzi Stai rendendo un gol facile, è stato Zaha William, tu più grande Corriera, Corriera, Corriera Touré 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 Hai Kein Hai Kein Che intervento non ha l'altro Adesso già Ericsson Apri il gioco Ibraimovic William Hai tu re Kein Kein Aspiliqueta Otamendi Vanhanolt Fanno possesso palla nella propria vita a campo Possono permettersi di rallentare C'è spazio per andare Palla vagante C'è spazzato via Kein Forza Passala subito Kein Con Giuda Vai William, tu vedi Herrera Herrera Bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla Palla girata sulla fascia Cosa sarà? Cosa sarà? Che scatto si sarà? Che scatto si sarà? Che scatto si sarà? Oh no Ande c'è il grab, ande c'è William Sarvi Herrera Herrera E' Kein Madonna Che cavolo di palloni che perdiamo Che palloni Che palloni stupidi che perdiamo E' Kein Vai Kein Faci che goci 3 a 2 ragazzi 3 a 2 Grande Kein ragazzi Grande Kein Grande Kein Grande Kein 3 a 2 Partita molto spettacolare Van Anolt Ecco l'effetto la sette passaggio con lo scopo di farci confondere Ma ci sono riusciti Ai Kein Madonna Quanto è lento sto prevedendo Quanto cavolo è lento E' pure Cometta anche fallo Cometta anche fallo Nel po' Anno a nonostro Passaggio col pesa Anno a nonostro Assaggio col pesa Uppino Paraglia metri verso l'area Potrebbe crozare Ericsen pubblico occhi al pallone c'è spazio per i conti in grado se non ho notato l'infermato una volta prima sarà battuto per me lo mettiamo di nuovo commentiamo si avvicina all'area l'arbitro non ha visto il pallo in questa circostanza e lascia correre cerca il pallone profondo possono ancora sperare di parecciarla dopo aver rischiato di finire sotto gli due se usciranno dal campo con un risultato positivo gran parte del merito sarà dal portiere straordinario in questa circostanza cavolo, cavolo c'è un giocatore corto occhio a Eriksen è pericolo ecco il tiro madonna nessuno marca guarda ma nessuno marca ti quanti degli anni di qua aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono pechino, madonna william all'inizio c'è michi italiana tutto solo michi italiana grande michi italiana ragazzi grande michi italiana 3 a 3 ragazzi 3 a 3 3 a 3 festeggiare il migliore dei modi per michi italiana la sua cinquantesima presenza ragazzi la festeggia nel migliore dei modi cioè con un gol che la sua cinquantesima presenza vai ragazzi vai vai dai così ragazzi dai così dai così davvero così adesso ci possiamo credere ragazzi ci possiamo credere ma ci metterà la ma ci metterà la ma ci metterà la ma ci metterà il terci forza attenzione Eriksen oh no grande la grande cieca la grande cieca grande cieca cavolo speriamo con un passaggio corto no occhio al corner di Eriksen suba quindi l'azione d'attacco vai Sané attenzione subisce fallo Sané subisce fallo combani Herrera Ture madonna che passaggio deviato cazzo vai Ture vai c'è un contassiamo la parola non sembra allora non ritorno e poi ragazzi sbagliato 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 un errore che potrebbe avere ripercussioni ai vini è tua Sané madonna raga l'arbitro di mezzo l'arbitro di mezzo grande recupero una volta e non l'altra non sembra invece fortuna una volta e non l'altra vai Sané vai Sané buttate in mezzo Michi Italian all'esterno della rete ragazzi all'esterno della rete avuto l'impressione del gol avuto l'impressione del gol ragazzi sbagliato giuranzo attenzione attenzione tutto solo allora l'ultimo minuto ragazzo l'ultimo minuto l'ultimo minuto vestito l'arbitro della reazione ma donna che sfortuna è loro peggiorale le loro peggiorali le loro peggiorali le loro peggiorali hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero si fa durissima ora per la squadra avversaria vedremo se avrà un bel l'ultimo c'erano segato l'ultimo all'ultimo l'ultimo ci hanno fregato all'ultimo non ci posso credere non ci posso credere questo video può finire qua spero che vi sia piaciuto commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao